Sei pronto? Perché ti sto per svoltare il dolcetto quando ti viene quella voglia improvvisa con solo due ingredienti che avrai sicuramente a casa. Vai, allora ti serviranno due uova. Dividi i tuorli dagli albumi. Comincia a montare gli albumi. Poi unisci i tuorli e crema di nocciole. Adesso aggiungo l'albume delicatamente in tre volte. Viene la cocottina. Se vuoi renderlo ancora più goloso, aggiungi un cucchiaino di crema di nocciole nel mezzo. E via in forno a 180 gradi. Vi aspetto per i ringraziamenti qui sotto nei commenti. Ciao! Grazie a tutti!